Ciao bellissimi, sono Crax, bentornati su Clash Royale, ve l'avevo già spoilerato, guardate nel negozio cosa c'è, l'offerta torre cabinato che voglio shoppare, ci stanno pure 35.000 monete rega ma ormai sono maxato non è più un problema, il codice Crax ce l'abbiamo, la shoppiamo, ma oltre a questo lasciate subito 10.000 like per altri video di Clash Royale, ve li porto, voi rimanete sintonizzati anche se la Fireball è stata totalmente chillata. Voglio andare a provare, in realtà l'ho già provata perché mi sono portato avanti per prendere tutti quanti le medagliette lì, i bigliettini, per fare delle girate all'interno del baule degli standardi, vedremo delle cose e testeremo questo mortaglio spara barbari che è una cosa fuori detesta, l'ho testato ma lo voglio provare anche con voi. È rottissimo, cioè se lo posizioni bene e ti targetta la torre, te dico ciao, iscrivetevi è gratis, grazie mille per l'1,71, attivate la campanella codice Crax ripeto, ovunque prima di partire le shoppo e le impostiamo. Secondo me spaccano e molto di più rispetto a quelle del pass, ve l'avevo già detto, aspettate perché qui non ci dobbiamo andare, ando stanno, eccole, le skin, imposta, togli le altre, non ho niente in rotazione. Singole, messe, ho impostato un deck, una via di mezzo, considerate che ho tolto il cannone, ci ho messo il mortaio, ma in realtà ragazzi senza cannone non è andata a nessuna parte perché quella carta è totalmente OP, deve essere difesa con qualche struttura, golem del ghiaccio e così via, ho tolto gli scletrini, il congelino è molto comodo per resettare il target. Tre partite, ci prendiamo le motte e poi dopo facciamo anche delle gira da punto sul baule degli standardi, voglio prendere, cavolo ragazzi che figata le torri, vedete il golem del ghiaccio, fondamentale, moschettire messo, stavo dicendo per prendere i bauli, no i bauli, gli standardi, eccetera, qualche icona carina e così via. Eh ma vi devo dire che la situazione non è delle migliori, io metterei un domatore per far tornare indietro la gente, qualche secondo, dopo di che me apro la strada e potrei mettere, no un cavolo ragazzi, non metto niente, metto il cannone difensivo, ma le torri sono rotte totalmente, ma le torri sono bellissime, sono da provare secondo me anche nell'arena quella elettrica, spettacolari, ottimo acquisto per il grax, super, no che super, spara barbari, se vola, regà non potete capire quanti ne spara, non potete capire quanti, però mi mi sta, eh mannaggia il pescatore che me li toglie, quelli vanno sulla torre, qualche danno, vanno sempre, credo sulla torre, esatto, mamma mia i danni che fanno, ma è una cosa infinita, un attimo che arriva il ciumbombosis, il ciumbabombosis, quindi devo cercare di deviare il tutto con un cannone, credo che sia stato discretamente nel fatto, ho preso la torre, non so come ho preso la torre, una carta totalmente rotta, lo sparatore di barbari, fireball velocissima, grossa fireball, peccato che non mi faccio attivare la torre, ma le vorrei vedere pure frontali, perché adesso le vediamo da dietro, ma dietro c'è sta proprio l'iconcina del king, il joystick per le principesse, let's go, spara barbari, a noi non so ragazzi se è italiano ma non credo, e via, giude, spara barbari però mi sa che me la risetti, no non me la dovrebbe risettare, perché giustamente quella non mi colpisce, guardate quanti ne spara rica, guardate quanti ne spara, però con la torre c'entra, guarda quanti danni sto facendo, buoni perché mi ha chiappa, eh mi ha chiappato il moschettiere, maledetto, e qui mi fa brecchi danni se non metto il cannone di corsa, se riesco a farmi attivare la centrale con la pyro sarebbe comodo per difendere, ok ci può stare, torre centrale attiva subito log, e te saluto, grossa difesa, sapete che vedico? Michael Jordan, da 3, il tiro, torre presa e si va a godere, occhio, e mo quello come lo difendo, mo quello me ara sicuro, perché il barbarello riesca a colpirlo, ma ho messo male la situazione, un attimo il cannone, raga è una carta totalmente rotta, però abbiamo dei margini, nel senso lui cerca sicuramente di portarci a casa una torre, io posso andare tranquillamente avanti facendo il danno importante, buono il chumbumbosis, se quello lo posso fermare, metti lo spara barbariera meglio a destra, perché lui a sinistra deve busciare, domatore a destra allora, raga ve lo dico, ok, grossa giocata per lui, va bene, moschettiere tattico, però doppio barbaro sotto torre, raga doppio barbaro sotto torre, guardate che roba, è una cosa barbarica, è una cosa barbarica, 12 tonnellate sono, hai presenti i pancali? E i pancali di cemento, sono una cosa barbarica, 380 la torre centrale, era un buon inizio, però ci sta, queste sfide sono sempre carinissime da giocare, l'altra volta il super mini pack era rotto, stavolta abbiamo sta carta che è rottissima, dai, next partita, buoni questi 100 punti, mi sa però che non posso prenderli, perché giustamente sto a 140 su 200, Rossi con botto ragazzi, ve lo dico, sapete perché? Perché adesso apro questo baule, guardate, mamma mia, te sei sprecato, gioco, grazie mille, come sempre sei meraviglioso, la seconda girata costa 100, non lo sapevo, raga, pensavo 150, allora no, va bene, 40 più 100, pensavo di non arrivare a 150, invece posso fare un'altra girata, la facciamo dopo questa partita, e magari l'ultima eventualmente la offre Crax, utilizzando questi bigliettini, automaticamente mi tolgo, diciamo, la probabilità di trovare monnezza, e quindi mi conviene, perché sicuramente quando poi vado a gemmare trovo quelli più rari, perché non si possono trovare doppi, vi ricordo, non se puoi trovare doppio, veloce Gorlog, provo a togliere il mortaglio, ce n'è solamente uno, se ne andiamo sulla destra, tanto la Tesla sta bassa, veloce, Instant il congelino? Sì, ragazzi, guardate i danni che gli arrivano, rega guarda, buono il mago zap, però comunque ce n'ho due sottotorre, un altro? Eh, non era male, eh, io ho preso torre, rega, io ho preso torre, è una cosa barbarica, davvero, cioè questo video si chiamerà una cosa barbarica, lasciate un like, iscrivetevi, campanella, Crax e porta sti video, ma dovete lasciare like, perché è totalmente disumano, poi come lo sto patroneggiando, col cannone, con un 2.6 ritattato, nerfato, meraviglioso, attenzione, qui ci starebbe bene questo, più questo, più questo, in questo modo io pulisco tutto di sicuro, quello mi si gira e tolgo, forse ho anche sprecato troppo, però ho tolto il barbarello, mi può stare bene, ho caricato a bomba, ora, congelino, penso da dietro, ci stanno pure le monetine di Insert Coin, ma che carine queste torre codice, Crax, se vuole supportarmi, il re degli schelli rinerfato, la moschettiera, anzi, aspettate un attimo, rega, golem del ghiaccio, non diamogli troppe anime, ok, metto il moschettiere, sì, potrei mettere pure la fireball, ma mi conviene tirare un loghetto preciso, non te sbagli, buona quella veleno, ma il Crax al momento c'è, la Tesla è messa strategica, quindi io non posso mettere il mio mortaio di barbari, potrei mettere però un cannone che va a dare fastidio, mi permette di posizionare lo spara barbarelli, così ho il countdown per lockare la torre, let's go, e quindi, subito spiritello ice, buono quel cannone, rega, ho fatto una giocata clamorosa, clamorosa, disumana questa giocata, l'ho tirato pure un altro, corri log, basta una botta, bastava una bottarella, vabbè, comunque ci siamo, potrei fare il tiro da tre, molto tattico, easy, così la giochiamo, vai cannone che ci devi dare una mano sulla Tesla, let's go cannone, let's go moschettiere, sto andando alla grandine, sto andando alla grandine, log, hit arrivata, torre presa, questo lo piazzo sulla destra, 21 secondi per fare tre corone, da quando ho shoppato i gabbinati, praticamente l'avversario è stramorto, subito moschettiere, let's go, almeno tiro più barbari possibile, vai col domatore, mi sa che le tre corone però, nulle faccio, ma va bene comunque, abbiamo vinto, senza fare sconvitta, ci manca solamente una partita, dobbiamo giocare bene l'ultima, chiudiamo tutto, però adesso, prima di andare all'ultimo match, giratina tattica di standardo, ci mancano cinque standardi rarissimi, no rari, perché erano sei quelli totali, vi faccio vedere, uno l'abbiamo trovato nel precedente video, infatti i rarissimi sono cinque, i rari sono cinque, faccio a trovare due, in possesso vabbè tutti gli altri, vai, girata sempre quei token, che ci vai a dare, te prego qualcosa di rarissimo, oh pescatore, non mi piace, oh pescatore, oh pescatore, non mi piace, vabbè la girata finale l'offre Grax, il bello è che coi biglietti non aumenta il prezzo, allora bisognerebbe sempre utilizzare i primi biglietti e poi dopo le girate con le gemme perché aumentano, cinque su sedici, siamo messi comunque bene, last match, l'ultimo lo offro io, ci penso io, quello c'è al king, mi piace quello del king, speriamo di non trovarlo, dopo regà assolutamente voglio qualcosa di rarissimo, let's go dei mortai, vabbè questo, ah no, bonus, ci sta, ci sta la torre inferna, certo che ci sta, se la frizzo, eh, potevo magari guadagnare un paio di barbari, allora andiamo sulla destra, lui ha sicuramente il mortaio, la torre infernale non penso abbia, esatto, tre strutture, domatore che ci fa uno, che ci fa due, pipistrelli, io farei tipo, aia, 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 un attimo mi tocca fare così, perché poi mi tocca fare così, perché poi mi tocca fare così, sperando che io possa togliere instant tutto per poi killare instant i barbari, ok, è andata bene, i barbari mi sa che fanno tipo 10 di danno da caduta, poca roba, eh, ma se non difendo, regà, se non difendo, so, attenzione al game finale, attenzione, eh, regà, attenzione, mamma mia il mortaio, mamma mia regà il mortaio, che roba che è il mortaio, che roba che è una cosa troppo barbarica, non se tene, cioè se te locca la torre non lo riesci a difendere, ho sbagliato la fireball, potrei tirarla avanti, essere più veloce, con molta calma, lui c'ha la torre infernale, potrebbe ripetere la giocata di prima, quindi se io metto il mortaio, probabilmente lui mi ara, si può recuperare se la gioco bene, ok, me ne vado sulla destra, metti la torre infernale, spreca 5 o 4, sta cosa non mi piace, però ci si può lavorare ragazzi, qualche barbaro ce l'abbiamo sotto torre, quello lo fermo, questo jumpa che è una cosa assurda, fermalo lì, mi sa che non macchiappar Moskiewicz, ok, questo l'ho fermato, c'ho tutto sotto, e insomma eh, insomma, però, comunque siamo sul pezzo, altro spara barbari, se il recupero secondo me ce la posso far vincerla, ma devo prendere, poteva andare in protezione col golem del ghiaccio, andando in protezione col golem del ghiaccio, c'avevo praticamente la giocata clean, perché poi ti mette i barbari sotto la torre infernale, col gran cavaliere è molto difficile recuperare adesso, molto difficile, c'ho un minuto, vediamo, Moschettiere sulla sinistra, lui carica giustamente, o gli sfondo la torre, tutta dei cattiveria, ma come fai? Come fai a entrare? Considerando che c'è il gran cavallo, buono quel log, riesco a togliere lo shield, fermare lì, tiro solamente una hit, metto un altro Moschettiere, metto un golem del ghiaccio per tankare, più o meno abbiamo difeso, il gran cavallo è un problema, tiro un congelino lì, di perfect timing, cannone sulla sinistra, 20 secondi per poterlo fare, eh, non grosso problema, perché adesso mi se gira pure quello, domatore, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, difficile, difficile, se te gira bene il mortaglio, era difficile, perché ho un gran cavaliere, eccetera, potevo giocarla sicuramente meglio, la rifaccio, Grax accetta la sconfitta, non mi ricordo quante sconfitte avevo nella sfida, mi sembra una sola, quindi posso rifarlo, credo, senza dover riscioppare, col pass, e invece no, me l'ha scriptata all'ultimo match, dei pari, per Grax, beh ovvio, non è una novità insomma ragazzi, non ci facciamo tanti problemi, vai, si gioca, spara barbari e congelino, metti buona fortuna fratelli, guarda che ti arriva fratomo, ok, l'ho congelato quindi perdo un attimo, gli riesco a tirare doppi barbari, adesso mi tocca difende, veramente il mondo, c'è una paura incredibile, c'è qualche anima, non credo che possa caricare, però quindi lui, no, noi leggermente in vantaggio, possiamo dire che siamo in vantaggio, posso anche eventualmente mettere il domatore, lo andiamo a mettere, col congelino no me lo tengo, preferisco mettere magari il log, vedete regà me lo sentivo che il log era molto funzionale, non l'ho messo neanche troppo bene, perché ho potuto fare due danni in più sul cannon cart e fermarlo, invece mi sa che il cannon cart, no, che spreca il congelino, va bene, va bene, va bene, rimane lì fermo, senza problemi, non gli diamo il tempo di pensare, subito spara barbari sulla destra, lo devi mettere nel mid, regà ha un grosso problema, è vero che c'ho due barbari sotto torre, è vero che li frizzo, però il miner mi ha dato, ok, no, aspettate, perché io potrei fare tipo così, appena questo passa, let's go, e vabbè, ci ho provato comunque, il domatore passa, non dovrebbe avere struttura, infatti, rete e gli scheletri, quindi tre hit the cracks, due, tre, forse quattro, tre va benissimo, 500, questo lo andiamo a difendere, sono messo comunque bene, pur non avendo giocato benissimo, cannone subito, ok, quello va dritto, sì, il cannone gli toglie praticamente quasi tutta la vita, ma con log, pulisco, ma non serve neanche il log, perché c'ha gli scheletri, fermate, perché il doppio barbaro comunque te fa quasi 300, 400 di danno, log preciso, ma forse era meglio mettere il log a sinistra, e poi aspettare per ripartire col golem del ghiaccio sugli scheletrini, vabbè, non vi fate domande, domatore, lui è sprovvisto di strutture, ed è per questo, rega, che serve la struttura su sta challenge, buona quella hit, potrei tirare la fireball, mi conviene, prendere gli scherri, non esageriamo, il minatore può pure colpire, il resto, deve andare giù, vai, congelino, buona la sua congelata, io il log, l'utilizzo adesso, perché è fondamentale per togliere il cerbe, altrimenti ci massacra, comincia a sparare i barbari, allora subito cannon cart, per prendere un po' di stabilità, eh, fidatevi regà, che se non giro un altro log, non me la passo bene, boni, buoni, 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 buono quel log che può fare danni, sì, ci può anche piacere, lui potrebbe mettere il minatore sulla sinistra, io metto questo più questo, esatto, metto una fireball lì, e dovrei, credo, esserci, salvo imprevisti, molto imprevistosi, guarda che log di Crax, come te la chiude, la qualità del gameplay, quando il gioco si fa bello, segna sempre Crax, invece che Borriello, grande Crax, ci portiamo a casa la decima, let's go, con, in realtà con restart, quindi c'è poco da festeggiare, buona le motte, se torna indietro, la impostiamo, mettiamola tanto per il meme, dove sta, provocazioni qui, togliamo il maialino, e mettiamo questa, stile Super Mario, un po' Minecraft cose, posso fare pure un po' dei box opening, bene, prendiamo le precedenti, ovvio, oro per noi, c'è stato un mini pecca, vai, questo l'apriamo, tutto molto veloce, di solito quando apro veloce, sapete che trovo, le leggendarie, ma non mi sembra ragazzi, di vedere leggendari, infatti, tutta munnez, se torna indietro, 200 gemme, prossimo acquisto, 250, che ci dai? Bello ragazzi, bello, questo mi piaceva, però certo, parliamo sempre, di uno standardo, raro, e quelli rarissimi, ciao, sicuramente tocca fare altre 3 girate, poi sono tutti rarissimi, beh, non è male, attenzione, perché il ghiaccio, c'ha questi riflessi, arancioni, molto interessante, mentre come sfondo, l'azzurro, rimarrei così, non mi dispiace, like, iscrizione campanella, per altri video di Clash Royale, codice Grax, se shoppate, mi raccomando, mettetelo prima, un abbraccione da Grax, devo togliere le spunte, le ho già tolte, e noi ci becchiamo al prossimo episodio, domani, Istanbul Guys, un bacio da Grax, ciao, ciao,